Ti ricordi quel giorno in cui Don ci aveva parlato dei libri dei giudici? Ah sì, quel libro che parla dei salvatori del popolo israelita. Che ne dici di chiamarlo per continuare questo? Don, Mirko, vieni un attimo. Ciao ragazzi, ciao Alessandro, ciao Veronica. Eccomi qua, di cosa stavate parlando? Stavamo parlando del libro dei giudici che avevo iniziato la scorsa volta. Sì, ci aspetta un percorso lungo questo libro della Bibbia particolare, è chiamato libro dei giudici, ma dicevo già non parliamo di giudici come li intendiamo noi, parliamo più che altro di condottieri, di salvatori, di persone che Dio incarica di liberare il popolo in un momento di grande difficoltà dovuto ai nemici molto più forti di Israele. E nel nostro percorso lungo il libro dei giudici siamo arrivati al capitolo 3, giudici 3, con il personaggio di Eud. È uno dei giudici della storia più particolare. Direi che possiamo leggere le prime righe di questo capitolo. Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere allo scopo di mettere alla prova per mezzo di loro Israele, cioè quanti non avevano visto tutte le guerre di Canaan. Ciò avvenne soltanto per istruire le nuove generazioni degli israeliti, per insegnare loro la guerra. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se Israele avrebbe obbedito ai comandi che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Ho letto solo quattro versetti. Se fate attenzione, guardate con attenzione il testo, vedrete che ci sono due motivazioni attraverso cui, in qualche modo, il popolo di Israele non ha trovato una terra facilmente conquistabile, ma ha dovuto fare difficoltà per conquistare la terra. La prima motivazione la trovate nella prima riga. Il Signore lasciò sussistere questo popolo perché Israele potesse allenarsi, potesse imparare l'arte della guerra. Eccolo qui, possiamo sottolinearlo nella terza riga, perché Israele potesse imparare a combattere, ma si impara a combattere solo se c'è un nemico da affrontare. L'altra motivazione è più profonda, e cioè, dice il testo della Bibbia, queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se Israele avrebbe obbedito ai comandi che gli aveva dato il Signore. In che senso mettere alla prova Israele attraverso la presenza di altre nazioni? Perché le altre nazioni portano con sé altre divinità, altri stili di vita, e quindi Dio voleva mettere alla prova Israele, secondo la Bibbia, dicendo, ma tu rimarrai fedele alla nostra alleanza, oppure ascolterai altre divinità, le divinità di questi popoli? Tu non puoi vagliare la fedeltà di una persona senza mettere un po' così altre possibilità di scelta. Ecco, direi che, secondo il racconto della Bibbia, la presenza di altre nazioni serve per ricordare Israele che la scelta per Dio è una scelta attiva. Non è che Dio sia l'unica possibilità, ma ci sarebbero altre possibilità che però vanno scartate per rimanere fedeli a Dio. E continuiamo adesso con la nostra lettura dal versetto 12 del capitolo 3 del Libro dei Giudici. Don, ma cosa vuol dire che gli israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore? Sì, allora, ciò che è male agli occhi del Signore è un'espressione, così come la troviamo, che ritorna tantissime volte nella Bibbia. Giustamente tu, Alessandro, dici, ma in concreto cosa vuol dire riprendere a fare ciò che è male agli occhi del Signore? Mettendo insieme questo versetto con altri versetti della Bibbia, direi che due sono i grandi ambiti nei quali il popolo può fare qualcosa che non piace a Dio. Il primo aspetto, quando il popolo si dà ad altre divinità, cioè l'idolatria, quindi fare sacrifici ad altre divinità, offrire regali, offrire incenso ad altre divinità, pregare altre divinità e cose del genere. Il secondo ambito, molto ampio, di ciò che non è gradito a Dio, è il peccato contro il proprio fratello, la propria sorella, cioè l'ingiustizia sociale e quindi le malvagità, le violenze, gli inganni, le frodi tra gli uomini. Questi sono i due grandi ambiti del fare il male agli occhi del Signore. Penso però che l'espressione resti volutamente ambigua per indicare davvero, in senso più ampio possibile, tutto ciò che non è gradito a Dio, che non rispetta i suoi comandamenti e le sue leggi. Di fronte a questo peccato del popolo, il Signore rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché facevano ciò che è male agli occhi del Signore. Vedete, appena una riga sotto ritorna il discorso, ciò che è male, potete sottolinearlo, agli occhi del Signore. Di fronte al peccato di Israele, nella lettura della Bibbia, Dio suscita contro il suo popolo un re straniero, un re nemico. Capite che è una lettura particolare, teologica della storia. Ma la Bibbia dice così, quando il popolo di Israele non si comporta bene, per fargli capire che così non va, per punirlo, Dio suscita dei nemici che minacciano il popolo e gli fanno capire che è fuori strada, che deve convertirsi e cambiare. Allora cosa fa questo Eglon, re di Moab? Eglon radunò intorno a sé gli Ammoniti e gli Amaleciti, due popoli antichi. fece una spedizione contro Israele, lo battè e occuparono la città delle Palme. Gli israeliti furono servi di Eglon, re di Moab, per diciotto anni. Poi gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore, Eud, figlio di Ghera, Beniaminita, cioè della tribù di Beniamino, che era Mancino. Ma scusa donne, perché Mancino? Perché viene sottolineato questo dettaglio? Intanto sono contento perché anche questo Eud era Mancino e anch'io, come vedi, sono Mancino, quindi io faccio il tifo per Eud. È interessante questo dato perché ci aiuta a capire quello che verrà dopo. Cos'è che succede praticamente? Leggiamo insieme. Gli israeliti mandarono per mezzo di lui un tributo a Eglon, re di Moab. Quindi abbiamo presente questo Eglon, il re nemico, un re forte, che è descritto come una persona molto molto robusta. Perché? Perché era piena di denaro, di ricchezza, poteva banchettare tutti i giorni e quindi era davvero una persona, diremmo noi, grassa, che stava veramente fin troppo bene. E poi abbiamo il nostro eroe, che è Eud, che era Mancino. Eud, dice il testo, si fece una spada a due tagli, quindi un'arma molto potente, lunga un gomed e se la cinse sotto la veste al fianco destro. È qui probabilmente il grande aspetto di astuzia da parte di Eud. Mentre normalmente i guerrieri sono destri e quindi tengono la spada sulla sinistra per poterla estrarre e poter combattere, Eud fa il contrario, è Mancino e quindi può permettersi di tenere la spada sulla destra dove magari non verrà perquisito. E questo è il suo trucco. I guerrieri Mancini, al tempo dell'antico Israele, erano dei guerrieri particolari, perché si comportavano proprio come atteggiamento di battaglia e di attacco in maniera diversa rispetto alla gran parte dei combattenti. E quindi erano dei corpi speciali, anche selezionati, che potevano stravolgere un po' le sorti di un combattimento. Quindi qualcosa davvero di interessante. Allora lui si cinse questa spada, questo spadino, questo pugnale, sotto la veste sul fianco destro. E poi andò e presentò il tributo a Eglon, re di Moab, che era un uomo, come vi dicevo, molto grasso. Notate che presentare il tributo vuol dire fare segno, gesto di sottomissione. Quindi di per sé recita questo Eud, fa un atto di sottomissione, porta il tributo a questo re nemico che comanda su di loro. Finita la presentazione del tributo, ed era insieme ad altre persone, Eud torna indietro, ripartì con la gente che l'aveva portato. Ma poi tornò indietro e disse, o re, ho una cosa da dirti in segreto. Quindi Eud cerca la possibilità, l'occasione, per stare in privato insieme a questo re Eglon, che è un re molto grasso, molto potente, con un popolo molto forte alle spalle, ma davvero sembra molto stupido e molto sciocco. Perché dice a tutti i suoi servi, silenzio, tutti fuori, e quanti stavano con lui uscirono. Quindi il re Eglon si mette in condizione di parlare a tu per tu con Eud. Allora Eud si accostò al re che stava seduto al piano di sopra, riservato a lui solo, per la frescura, e gli disse, ho una parola di Dio per te. Quegli si alzò dal suo seggio. Allora Eud, allungata la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco e gliela piantò nel ventre. Anche l'elsa entrò con la lama. Il grasso si richiuse intorno alla lama. È una scena davvero particolare, è un po' raccapricciante anche, ma il senso di tutto questo è che Eud, in maniera molto astuta e scaltra, è riuscito a stare a tu per tu con il re Eglon e lo ha colpito con questa spada nascosta ed è il re così grosso che praticamente è entrata tutta l'arma, addirittura con l'elsa, nella sua pancia, insomma, nel suo stomaco, e il grasso si richiuse intorno alla lama. A questo punto Eud, senza estrargli la spada dal ventre, uscì dalla finestra, passò nel portico dopo aver chiuso i battenti del piano di sopra e aver tirato il chiavistello. Perché ha tirato il chiavistello? Sembra, se noi pensiamo a questa scena, che Eud volesse guadagnare del tempo, quindi chiudere la stanza nella quale lui, in teoria, stava conversando con il re, come a dire a quelli che erano di fuori, adesso stiamo parlando di affari segreti, di affari privati, quindi non disturbate, in modo che ha più tempo per fuggire, attraverso la finestra, insomma, attraverso dei passaggi forse anche segreti, per fuggire e mettersi in salvo. Quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono e videro che i battenti del piano di sopra erano sprangati e pensarono, certo attende i suoi bisogni nel camerino della stanza fresca. Qui abbiamo addirittura un'altra possibilità, cioè, vedendo le porte sprangate, dicono, questo re è andato ai servizi, è andato ai servizi, sta esploitando i suoi bisogni, aspettiamo un po'. Ma, a un certo punto, dopo aver aspettato così tanto, furono inquieti. Allora decisero di prendere la chiave, di aprire, e trovarono il loro signore steso per terra e morto. Ma, Don, perché prima il signore rese forte Eglon e poi lo fa uccidere? Sì, qui sopra abbiamo letto il signore rese forte Eglon, possiamo sottolinearlo, e qui, di fatto, questo re nemico è morto. Le cose stanno insieme. Il signore rende forte Eglon perché Israele aveva peccato, e quindi la punizione per questo peccato sono, quello che abbiamo letto, 18 anni di servitù di Israele nei confronti di questo re di Moab, del popolo dei Moabiti. Ma, a un certo punto, secondo il ciclo che troviamo nel Libro dei Giudici, il popolo, di fronte a una punizione, a una botta sui denti così forte, capisce di aver sbagliato, si pente, chiede perdono, e allora Dio lo aiuta. Questo è un ciclo molto presente nel Libro dei Giudici. Il popolo ha espiato il suo peccato, ha capito la lezione, per cui Dio aiuta, viene incontro al suo popolo, in questo caso suscitando Eud come guerriero, liberatore e salvatore, che ha ucciso Eglon. Quindi Eud, naturalmente, fa far fare una bella figura al suo popolo. Notate che qui non c'è uno scontro diretto, ma Israele, che è molto più debole, vince sempre con l'astuzia. Qui è l'astuzia di un grande guerriero, mancino, particolare, che è riuscito a sconfiggere un popolo molto forte, ma con un re fondamentalmente stupido e ottuso. Quindi notate che, in questo caso e in tanti altri casi, del Libro dei Giudici, la vittoria non è un grande scontro militare, ma è la vittoria dell'astuzia e dell'intervento di Dio rispetto alla pura forza, ma stupidità, dei grandi eserciti nemici di Israele. Eud era morto e gli israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Praticamente dopo questa grande vittoria, e dopo alcuni anni, un po' di tempo, muore anche il salvatore Eud, questo grande guerriero che abbiamo incontrato oggi, e il popolo ritorna a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Allora ricomincia il ciclo, e vi annuncio già quello che sarà l'argomento del nostro prossimo incontro. Il Signore consegnò Israele nelle mani di Yabin, re di Canaan, e il capo del suo esercito era Sisara. Gli israeliti gridarono al Signore perché Yabin aveva 900 carri di ferro, e da vent'anni opprimeva duramente gli israeliti. Abbiamo risolto il problema con i Moabiti, ma adesso, come voi vedete, abbiamo un altro problema con la popolazione dei Cananei. Come si comporterà Israele? Cosa farà Dio? Lo ascolteremo nella prossima lezione. La popolazione dei Cananei